Gli agenti della polizia stradale di Fano hanno denunciato in stato di libertà il responsabile di diversi furti di merce consumati presso le aree di servizio della tratta autostradale A14. Da alcune settimane infatti erano arrivate alla sede della polizia stradale di Pesaro diverse denunce relative ad ammanchi di merce da parte dei gestori delle isole di ristoro ubicate lungo la tratta dell'A14 vigilata dalla sottosezione della polizia stradale di Fano. Il modus operandi utilizzato dall'autore dei furti sostanzialmente identico in tutti gli episodi cosa che faceva sospettare agli inquirenti che l'autore fosse un ladro seriale e poi lo studio della cadenza temporale con la quale si verificavano i fatti e degli esercizi commerciali colpiti ha indirizzato le indagini degli investigatori. Uno degli esercizi più colpiti è stato il punto di ristoro di Esinoest e dove i poliziotti hanno così effettuato particolari osservazioni mirate. L'esame poi delle indagini registrate dal sistema interno di videosorveglianza assieme ad un'attività di ricostruzione ha consentito di risalire ad un camionista pugliese sessantenne ritenuto essere l'autore di furti di merce per un ammontare ancora da quantificare ma che da una priva valutazione sfiorerebbe i 500 euro di valore. L'autotrasportatore una volta rintracciato ed identificato ha messo le proprie responsabilità approfittando della distrazione degli addetti toglieva dalla merce per lo più generi alimentari i congegni antitaccheggio e che poi nascondeva all'interno di un borsello per poi allontanarsi con disinvoltura dal negozio. Ma a dare un particolare aspetto a tutta la vicenda è la scelta della merce rubata dal camionista il quale aveva una vera e propria predilezione soprattutto per cioccolatini di marca. L'uomo che una volta scoperto si è dichiarato intenzionato a risarcire i commercianti del danno causato è stato denunciato però all'autorità giudiziaria.